inaudito quello che ho letto è davvero inaudito se trova conferme è qualcosa di triste Victor Rosimel l'investimento di De Laurentiis che ha fatto per portare comunque al Napoli un valore aggiunto rischia di aver già finito, di aver concluso la stagione il bello è che sembra assurdo sicuramente anche improbabile però, e c'è un però il tutto, la notizia arriva non dico dall'interno ma comunque non stiamo parlando di una fonte esterna al Napoli perciò sono qui a parlarne se no di ste cazzate neanche bisognerebbe poi parlarne ma c'è da fare un discorsetto, buongiorno buongiorno, buongiorno, buongiorno baldigiovani prima di discuterne accanitamente di vagliare tutte le ipotesi perché qua c'è qua è un discorso serio un discorso anche delicato se vogliamo vi invito a scaricare l'app OneFootball c'è un motivo in più per farlo avete un motivo in più ragazzi miei baldigiovane mascalzoncelli quale OneFootball ha acquisito i diritti d'immagine della Coppa di Germania quindi potete vedere il Bayern Borussia potete vedere queste sfide gratuitamente basta scaricare l'app ragazzi basta scaricare l'app fatelo fatelo non costa veramente nulla è gratuito link in descrizione passateci mamma mia mamma mia detto ciò come dicevo prima la notizia la fonte arriva da Kiss Kiss Napoli cioè la stagione di Victoria's Men potrebbe essere clamorosamente finita l'attaccante nigeriano fermo da metà novembre l'otto novembre con precisione fermo dall'otto novembre per una lussazione alle spalle in Coppa d'Africa e che nel frattempo ha anche contratto il virus e tra l'altro aggiungo risulta ancora positivo continua ad avvertire dolore alla spalla e al braccio non riesce addirittura a correre mistero per i tempi di recupero Radio Kiss Kiss Napoli dice che potrebbe volerci ancora qualche mese anche Cattuso ieri ha detto che ci vorrà ancora del tempo per il suo recupero scrive il napolista cioè ribadisco se fosse tutto infondato cosa che mi auguro tra l'altro io ve lo dico chiaramente quando si parla di un giovane giocatore con prospettiva di un giocatore che può essere un valore aggiunto sì per il Napoli ma anche per tutto il campionato italiano perché se poi nell'Inter ci sta Lukaku se nel Milan ci sta Ibra se nella Juve ci sta Ronaldo è bello avere dei giocatori che possono diventare importanti tutti vorremmo avere Messi Mbappé Neymar nel campionato italiano e questo è un giovane di prospettiva che può terribilmente incidere sul nostro campionato ma che finora purtroppo non l'ha fatto e non l'ha potuto fare perché è dall'8 novembre che non gioca a calcio da quella maledetto infortunio poi si è giunto Covid e quant'altro e non gioca a calcio non gioca per il Napoli ma sto facendo una confusione assurda e cerchiamo di dare ordine cerchiamo di mescolare il tutto per per portare tutto su un territorio più equilibrato che cazzo sto a dire ma che cazzo dico sarà che notte fonda io vi do il buongiorno ma è notte fonda in realtà è molto semplice perché testate o comunque fonti vicine al Napoli dovrebbero di cagate dovrebbero dovrebbero buttarla là dire una cosa così insensata non ne va non va bene secondo me non andrebbe bene non gioverebbe allo stesso Napoli ecco perché una parte di me e ripeto questa è un'ipotesi che magari sarà a campatinare magari non ci azzecca niente magari è tutto tutto frutto della mia mente bacata ma mi confrontavo anche in live con l'amico napoletano Valerio Fluido potrebbe essere anche una sorta di preparazione se vogliamo alla notizia non che Osimen finisca addirittura la stagione ma che magari ci voglia ancora veramente del tempo un altro mese altri due mesi magari non parliamo di fine stagione ma parliamo di altri due mesi sapendo che si gioca ogni tre giorni non sono poco non è poca cosa non è poco conto ecco lo stesso Gattuso che in conferenza dice ci vuole tempo ci vorrà ancora del tempo e cosa ti fa capire che di sicuro non si parla delle prossime gare un rientro non è previsto al più presto ecco perché lo stesso De Laulentes che come al solito non chiarisce la situazione non che in questo caso debba debba farlo assolutamente però davvero questo è il mio ecco questo è il mio timore stop non credo ci sia altro da aggiungere poi può essere che l'infortunio alla fine può essere che ancora non si conosca bene l'entità e mi sembra strano mi sembra grave possono essere tante cose ma in realtà non mi spiego non mi spiego che una notizia del genere esca esca così ripeto da fonti vicino a Napoli perché che io sappia radio chi schisse è praticamente a braccetto con eh ho sbaglio magari sto dicendo delle boiate assurde sto dicendo delle robe di cui posso anche scusarmi ma non credo sia non credo sia così quindi è questo il mio timore è questo il mio timore che magari davvero sto ragazzo rischia rischia un ripeto non magari di arrivare a finale ma rischia magari ancora un mesetto due di stop che comunque non sono poca cosa e ragazzi a Napoli bisogna fare questo discorso e chiudo a Napoli sta mancato un giocatore fondamentale che è lo stesso Semen cioè a Napoli si sta mancando ma vi ricordate le prime partite del Napoli quando entrò comunque ti offriva una variabile in tanti tiranno ma segnava poco ma segnava poco ma faceva segnare ma aiutava era un valore aggiunto ti aggiungeva un qualcosa di differente un qualcosa che insegne Lozano Mertens Politano non hanno la struttura la struttura e sta mancando un giocatore del genere da due mesi al Napoli e rischia di mancare per altri due mesi almeno al Napoli quindi ecco quando si giudica anche un po' frettolosamente il carattere o comunque il gioco di questa squadra o comunque il reparto offensivo mettiamole in conto queste cose perché se manca Ronaldo due mesi alla Juventus non è la stessa cosa se manca Lukaku all'Inter per due mesi non è la stessa cosa se manca non è la stessa cosa quindi io quello che posso dire è che avro un rientro frettoloso anche prematuro per questo ragazzo speriamo bene perché dispiace onestamente dispiace quando parliamo di giovani prospetti che poi sono appunto in qualche modo come si dice in questi casi sono impediti non possono svolgere non possono mettersi in piazza non possono mostrarsi esternarsi esternare il valore per situazioni del genere di questo genere dispiace tanto dispiace veramente tanto va bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate ragazzi se vi va iscrivetevi al canale un grande abbraccio dare iscrivi